Grazie Presidente. Allora, si è parlato che qui si sfiora il ridicolo. Io penso che qualcuno il ridicolo l'abbia anche superato. Sappiamo tutti le responsabilità, come è stato detto correttamente dalla Sindaca e dall'Assessora, le responsabilità del... Consigliere Figliomeni, cortesemente, veramente. Non ho bisogno di consigli. Consigliere Di Palma, si rivolga alla Presidenza. Allora, dicevo, io vado anche un pochino oltre rispetto a quello che è stato detto dalla Sindaca e dall'Assessora. Zingaretti ha chiuso una discarica a gennaio 2020, con due anni e mezzo di anticipo. In una situazione così critica nella Regione Lazio, ho detto francamente, è un comportamento alquanto irresponsabile. Voglio ricordare un po' i fatti, perché i fatti vengono ricordati in modo strano in quest'Aula. Prima indica al Comune di Roma, che sta per chiudere la discarica di Colleferro. Poi emana un'ordinanza, ovvero ordina, alla Comune di Roma e alla Sindaca di individuare un sito. Sito che in realtà è stato individuato su un tavolo tecnico, dove hanno partecipato la Regione Lazio, la città metropolitana e il Comune di Roma. La dirigente della Regione Lazio che ha partecipato a questo tavolo e che in realtà aveva indicato anche Monte Carnevale, si chiama proprio Tosini. La dirigente che è stata arrestata a metà marzo di quest'anno. Ebbene, questo è il percorso storico di quello che è accaduto. E' ovvio che quando è arrivato l'arresto è arrivato anche il ritiro di quella delibera. Questo solo per fare chiarezza su quello che è accaduto. Ma ciò che è assurdo, che è accaduto in quel periodo, è che la chiusura del... Zingaretti ha chiuso la discarica di Colleferro e ha ordinato di individuare una discarica a Roma Capitale. E tutti sanno che per individuare una discarica ci vogliono tre anni per far sì che questa discarica apra. E dunque lui chiude qualcosa di certo che poteva essere autorizzato fino al 2022 e che aveva ancora capacità di capienza per l'ipotesi di una discarica che verrà aperta in futuro. Se questo è un comportamento responsabile, detto francamente, secondo me non lo è. Ci ritroviamo anche nella situazione in cui, nel momento in cui c'è stato l'arresto della dirigente della regione Lazio, è stato arrestato anche la società, il titolare della società che doveva costruire la discarica a Monte Carnevale. Ebbene, gli arresti ci sono stati a metà marzo. Il primo di aprile chiude la discarica di Roccasecca dello stesso proprietario che è stato arrestato. Dunque, noi ci ritroviamo che all'inizio della consigliatura c'erano almeno cinque discariche che sono oggettivamente poche per un territorio come la regione Lazio e ora ne abbiamo una e mezza e una sta per chiudere. Dunque ce ne ritroveremo con una. Bene, ha fatto la sindaca ricordare che la regione Lombardia ne ha 21 di discariche. E questo è un compito della regione. Io lo vorrei spiegare, l'ho spiegato più volte anche scrivendo dei post su Facebook e l'ho spiegato alle persone che me lo chiedevano. Ma perché i rifiuti rimangono a terra? Per un motivo molto semplice. Perché i camion vanno negli impianti di trattamento meccanico-biologico dove i rifiuti entrano e poi escono. Nel momento in cui deve uscire la parte che deve andare in discarica, se non c'è la discarica nella regione Lazio, i rifiuti rimangono negli impianti che si riempiono. Dunque i camion non possono scaricare. Saltano i giri e i rifiuti rimangono a terra. Ma di chi è la responsabilità? Di Zingaretti o della Raggi? Che è responsabile di tutto il mondo. Su questo Zingaretti ha delle responsabilità. E sono enormi su quello che è accaduto. E detto francamente, anche su quello che è successo con la discarica di Colleferro, beh, io un po' di intenzionalità ce la vedo, di mettere in difficoltà Roma. Per cui dobbiamo raccontare le cose e le dobbiamo raccontare per bene. Sono state dette molte cose. Ancora il PD insiste che l'Atari aumenta. Ve l'abbiamo già detto. Leggetele, le delibere. Leggetele e lo scoprite. L'Atari non aumenta. Punto. Basta fare due conti. Non serve molto. Dovete sempre alludere a questa cosa perché dovete, ovviamente state in campagna elettorale e state dicendo delle falsità alla città e dunque tra queste c'è anche quella del possibile aumento dell'Atari. Certo è che le responsabilità della Regione Lazio non si fermano qui perché in questi giorni il Ministro Cingolani sta dicendo che il piano rifiuti della Regione Lazio non è adeguato. Un piano rifiuti che è stato manato un anno fa dopo sette anni che non c'era il nulla ed è stato tutto il periodo in cui ha governato Zingaretti. Noi avevamo il piano rifiuti della Polverini che si basava tutto su Malagrotta poi Malagrotta viene chiusa nel 2013 un politico minimo che accuore la sorte dei propri cittadini rifà il piano rifiuti perché quel piano rifiuti non è più in vigore. Ebbene noi abbiamo dovuto aspettare sette anni e dopo sette anni che è stato manato a giugno del 2020 ci ritroviamo con il Ministro Cingolani che dice guarda che lo devi cambiare perché quel piano non va bene. Questa è la situazione. Ora non si possono chiudere le discariche e non trovare delle situazioni oggi. Oggi c'è stata una speculazione su questa cosa dell'individuare la discarica dentro Roma Capitale che anche se fosse ci vogliono anni per farla. Dunque caro Zingaretti tu che cosa fai per risolvere il problema oggi? Non sta facendo nulla. Assolutamente nulla. Tanto voglio dire che alla fine vuole far scaricare la colpa su Roma Capitale e sulla Raggi per cui per lui la situazione è risolta. Per quanto concerne Ama io lo voglio dire con estrema chiarezza questa forza politica il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che poteva e ha mantenuto Ama pubblica. Lo abbiamo fatto con Atac e lo abbiamo fatto con Ama. Ve lo dico se avesse governato qualche di un altro questa cosa non sarebbero successe perché noi siamo gli unici che abbiamo messo su Ama 700 milioni di euro e abbiamo portato avanti il concordato preventivo in continuità su Atac e ricordo le urla in questa aula che ci dicevano in quell'occasione che volevamo privatizzare Atac e invece l'abbiamo mantenuta pubblica e siamo l'unica forza politica che crede nel servizio pubblico perché lo abbiamo dimostrato con i fatti e abbiamo risanato questa azienda sì è vero i bilanci li abbiamo approvati ad aprile 2021 e stiamo parlando del bilancio 2017 c'è stato un problema molto serio con questo bilancio peraltro problema che è scaturito con un amministratore che abbiamo nominato noi questa è la storia un amministratore che comunque ci ha proposto di approvare il bilancio 2017 agli inizi del 2018 con un utile di 800 mila euro e bene ha fatto la sindaca Raggi e l'assessore Lemmetti a ritenere quel bilancio non veritiero non veritiero tant'è vero che hanno voluto fare degli approfondimenti al tempo c'era un problema con 18 milioni dei servizi cimiteriali alla fine tutta questa questione dei bilanci AMA è andata a finire in procura per cui la magistratura sta indagando su tutti i bilanci dal 2003 e questa amministrazione allora ha detto senti andiamo a vedere nel dettaglio tutti i particolari dei bilanci la storia di questi bilanci ringraziamo qui il presidente Zagis che ha fatto un gran lavoro sul tema dei bilanci si avviene a conclusione si grazie presidente ebbene su questi bilanci alla fine le abbiamo approvati con meno 227 milioni di euro meno 227 milioni di euro quello del 2017 e meno 256 tra 2017 e 2018 questa è la situazione reale e lo abbiamo sempre detto che non si può pensare di risolvere il problema della città se non si risolve il problema dei bilanci delle società stesse per cui questa amministrazione il suo dovere su questo tema lo ha fatto e lo ha fatto fino in fondo ed è per questo che forse sarebbe il caso davvero di fare un consiglio in regione Lazio dove si tratti questo tema e dove si tratti a 360 gradi il problema che ha la regione Lazio su tutti gli impianti dei rifiuti ed è con quei è lì che il vero centro concludo è il centro della questione ed è lì è la regione Lazio che deve risolvere il problema anche di Roma ma di tutte le altre province della regione grazie